Il processo contro i quattro agenti egiziani della National Security accusati di aver rapito, torturato e poi uno di loro, Magdi Sharif, anche deliberatamente ucciso, Giulio Reggeni, si farà. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare Balestriere al termine di una lunga Camera di Consiglio. Il prossimo 14 ottobre, dunque, l'Italia chiamerà sul banco degli imputati i rappresentanti di quel sistema di potere che al Cairo nel 2016 strinse la trappola mortale attorno al ricercatore universitario venduto come spia. Anche se loro, su quel banco fisicamente, non saliranno mai, visto il rifiuto egiziano, all'elezione di domicilio. Ma è un processo, finalmente, e tanto basta alla famiglia Reggeni a rappresentare un barlume di speranza dopo violazioni indicibili dei diritti umani. Da oggi abbiamo una fondata speranza che, almeno il diritto alla verità, non verrà arrivato. Ce l'ho messo 64 mesi, ma è un buon traguardo, un buon punto di partenza. Nessun commento di Paola e Claudio Reggeni all'uscita dall'aula. Troppa la tensione e la stanchezza sui loro volti. Le difese d'ufficio degli indagati hanno provato a sostenere che fosse impossibile chiamare a giudizio in Italia. Il gruppo ha risposto che, vista la straordinaria copertura mediatica del dramma di Giulio, anche al Cairo sanno che qui si sta celebrando un processo. Gli 007 si sono volontariamente sottratte alla giustizia. Assieme a tutti coloro rimasti senza nome né volto nel fascicolo aperto ancora contro i gnoti. Continuate a starci vicino, al fianco. La strada è ancora lunga, ma è un buon inizio.